E' un'altra cosa. Finché non si trasformerà e affetterà le guardie come burro. Ho spedito le email in codice, ma non c'è abbastanza tempo. Molti vampiri non riusciranno ad andarsene. Quando arriverà la polizia, combatteranno, esponendoci ancora di più. Sarà un'apocalisse vampirica in piena regola. No. Emma non dirà niente a nessuno. E chi vuoi fare? Farla evadere tu? No. Tutti noi. Emma è detenuta qui, nella prigione distrettuale temporanea. La trasferiranno dalla prigione distrettuale a quella della coltea. Il furgone per il trasporto andrà a prenderla alle 20 in punto. Durante i 18 minuti del tragetto, la sorveglianza sarà praticamente minima. Una guardia e un autista. Il percorso prevede la svolta per Main Street. Per quell'ora Logan si sarà introdotto nel sistema di controllo del traffico. Ah, sì? Sì. I semafori tra Main Street e la terza devono essere verbi quando passerà il furgone. Guillermo, mi servirà un'ambulanza, una parella e tutto il resto. Nessun problema. E porta due litri di sangue. Spuntini da viaggio? Jackson ha detto che Emma non si nutre da 72 ore. Sarà in pessima forma. Ricevuto. Salve, signore. Che vuoi che facciamo noi? Voi pulite incidenti ogni giorno. Ora mi serve che ne creiate uno. Appena il furgone passa l'incrocio della terza, voi sarete lì ad aspettarlo. Main Street è una strada a senso unico. Il furgone dovrà fermarsi dove noi vogliamo che si fiede. Joseph e io aspetteremo lì per prelevarla. La metteremo sull'ambulanza e andremo via. Domande? Il mio nome in codice può essere Lando Calrissian? Andiamo. D'accordo, sono dentro. Ok, procedi. Siamo fuori verdini, arrivo. Mi scusi. Che cosa c'è? Le mie manette mi stringono. Mi sento male. Lo prego. Va bene. Vediamo. Giusto in tempo. Wow, è davvero gelata. Ho molta sete. C'è un altro firewall, il municipio deve aver aggiornato il sistema, mi serve più tempo. Hai dieci secondi. Oh, mi sei d'aiuto, ora andrò sicuramente più veloce, grazie. Ehi, Logan. Calrissian, posso e chiudo. Logan, fa diventare verde quel semaforo. Devono passare l'incrocio. Ehi, quanto manca ancora? Non sta molto bene. A quanto pare c'è un incidente più avanti. Metti la sirena e sbrigati. La dobbiamo portare subito in ospedale. Che sta facendo? Qual è il piano B? Non c'è nessun piano B. Carlissian, dobbiamo fermare quel furgone. Ci penso io a fermarlo! Oh, sì, sono un vero fenomeno. Avete visto, ragazzi? È stato stupendo. Un bel piano B. Concordo. Andiamo. Emma Monaghan, minacciando di denunciare i tuoi fratelli e sorelle, hai messo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità di tutta l'intera comunità. No, no, nella nostra vita abbiamo sempre fatto tutto insieme. Insieme. No, no! Non voglio che muoia anche tu. Signor Monaghan. Ti prego. Insieme. Siamo pronti. Non dobbiamo guardare per forza. Sì. Dobbiamo. Siamo pronti. Grazie.